Uomini e donne anticipazioni, ecco chi ha scelto Christian. I protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio per una nuova registrazione. Dopo il ritorno di Roberta e Armando, ecco che in questa puntata saranno Alessandro e Cristina a regalarci il colpo di scena. I due infatti hanno chiuso la frequentazione. Da settimane non si è parlato d'altro che di loro, e alla fine tutto si è risolto con un nulla di fatto. Tanto fumo e niente arrosto verrebbe da dire. Alessandro sembrava talmente preso da lei, da rinunciare persino a Roberta. Cristina invece, non è mai sembrata del tutto interessata al cavaliere. Il caso vuole che la coppia sia scoppiata proprio nel momento in cui hanno fatto ritorno in studio Armando e Roberta. Coincidenze? Vedremo cosa succederà nelle prossime registrazioni. A regalarci un vero e proprio colpo di scena è stato invece Cristian Forti. Il giovane tronista infatti ha fatto la sua scelta. Dopo aver vissuto momenti davvero concitati durante il suo percorso, il 22enne romano è arrivato alla conclusione della sua avventura a uomini e donne. Ha scelto però di andarsene in una maniera insolita. Non ha fatto la classica scelta in studio con tanto di cascata di petali rossi. Cristian infatti ha fatto la sua scelta in esterna. Ora viene da chiedersi, chi avrà scelto tra Valentina e Virginia? Ebbene, la scelta è ricaduta su Valentina, che ovviamente gli ha risposto sì. Da segnalare che l'altra corteggiatrice Virginia non era presente in studio. In una delle ultime registrazioni, il tronista dopo l'ennesimo abbandono della ragazza aveva dichiarato che non sarebbe più andato a riprenderla. Questa volta Cristian è stato di parola. Comunque sia, sarà il tronista, insieme alla neo fidanzata Valentina, a raccontare in puntata le modalità di questa insolita scelta. Nell'attesa, sappiamo invece che l'altro tronista Brando ha portato in esterna sia Raffaella che Beatrice, e le ha baciate entrambe. Anche il percorso di Brando dovrebbe ormai essere giunto al termine. A breve anche lui farà la sua scelta. Per quanto riguarda invece Ida Platano, sappiamo che ha portato in esterna sia Mario che Sergio. Mistero invece su David, il corteggiatore di origini cubane. Da qualche registrazione a questa parte è sparito dai radar. Non si sa se sia stato eliminato da Ida, oppure se la sua assenza sia dovuta magari a qualche impegno personale. Vedremo se tornerà. Detto questo, contenti per Christian? Secondo voi ha scelto bene? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.